Buonasera dottore, meno male che è arrivato, venga. E' di qua. Eccolo. Mi dica dottore, ci sono speranze? Mi è crepato. Questo è solo il Signore che può aiutare. Gesù? Ma no, quello è dello piano di sopra. E qui posso mettere lo stucco, posso dare una verniciata, ma senza fare la pente così, cosa venga a fare?